Negli episodi precedenti di Resident Evil, Revelations. Ferma dove sei. Cerca di attivare il programma di autodistruzione della nave, per distruggere le prove. Sequenza di autodistruzione avviata. Sembra che il mio brillante giovane assistente abbia fatto l'ultima mossa. Bene, ti ho finalmente chiarito la situazione. Jessica. Mi dispiace, Parker. Ci vediamo, amici. Parker. Qui Ettrick, mi sentite? L'estrazione non è possibile ora. Eseguo manovre d'attesa. Passo e chiudo. Che cosa hanno creato? Possiamo farcela, Chris. Ripeto, mi è impossibile avvicinarmi. Potremmi eliminare quella cosa. Minutano i parassiti, giornali del stagno. Puoi farmi credere che quel bugone è controllato da un parassita? E lo scopo è та. Ali è normale, queste parti shallici. Sì, sì. Spara, Jill! 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 E' finita? Siete stati incredibili! Vi butto giù una scala! Salite! Siete stati! Siete stati! Siete stati 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 stat Sei pronto, Chris? Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti. 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 E non trascuri niente. D'accordo. Tutto è cominciato un anno fa. Proprio lì, a Terra Grigia. Siamo all'inferno? Sì. Lo chiamano Terra Grigia. Questo posto non reggerà ancora molto. Questo posto non reggerà ancora molto. L'ha... Lensdale aveva ragione Già, il capo preme per ampliare le competenze dell'FPC Avvisava il mondo di un'eventualità di questo tipo E questo incidente porterà la crisi sotto i riflettori Potrebbe essere una buona pubblicità Già, forse la comunità internazionale capirà il messaggio La FPC deve crescere ancora molto Dannazione Dannate cose Raymond Jessica, aiutami Ricevete Ricevete Se vogliamo aiutare il cadetto facciamo fuori quelli Grazie 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 Forse erano gli ultimi Non è niente, passerà Sei ferito gravemente, non fare il duro Ok, qualcuno gli presti una spalla Parker Il quartier generale Ti ha ordinato di andartene Ma io posso ancora combattere Non mi convince Avanti, appoggiati Non possiamo ancora andarcene Ci sono civili là fuori Dobbiamo fare qualcosa Siamo in inferiorità numerica Dobbiamo riorganizzarci Come hanno fatto tutto questo con poche decine di uomini? Chili armati Le armi biologiche Questi terroristi devono essere assicurati alla giustizia Dannazione 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 Eccola Tutto bene Posso poco guadagnare tempo Andrante Non date una mia grande Sai troppo giovane per evitare션 Dimostri che va Prima di farti ammazzare Grazie. Non va bene, stai perdendo Sam. Spostarlo sarebbe troppo pericoloso, ha bisogno di cure immediate. L'unità medica è al quarto piano. Forse c'è qualcosa per fasciarlo. Tu resta qui, cadetta. Torneremo a prenderti. Andrà tutto bene. Ok, Parker, andiamo. Andrà. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Parli di Raymond? Solo il pugno di ferro fa crescere quelli come lui. Ok, come dici tu. Voi uomini e i vostri giochetti. Diavolo! La situazione è grave. Invaderanno per il suo comando. La situazione è alta. L'unità medica dovrebbe essere qua sotto. 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 Ora sei in debito con me. Capisco. Puoi fare il primo della classe. Ma niente eroismi. lo farai uccidere la tua unità. già... benvenuto nel mondo reale. Sì, signore. Ok. Questo ridurrà il dolore. Dovrai riuscire a camminare. 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 Voi scegliere a camminare. Dovrai riuscire a camminare. Amai. Come da. 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 Poi muoverti, capito? Penserò io a tenere a bada i nemici. C'è qualcosa che non torna. Cosa vuoi dire? Pensaci. Il modo in cui queste armi biologiche sono arrivate qui è troppo professionale. E come hanno fatto a eludere la vasta rete di intelligence dell'FBC? I conti non tornano. Forse qualcuno voleva che accadesse. Cadetto, stai andando fuori dalle righe. Non siamo qui per investigare. Siamo qui per risolvere il problema. Ma quello che ho detto ha senso. La sala di comando è vicina. Tu cerca solo di mantenere in vita il nostro cadetto. So che sei ferito, ma tieni il passo. So che sei ferito, ma tieni il passo. So che sei ferito. So che sei ferito. Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. Siamo stati fregati per bene. Non ho ancora finito. Avete uno scopo molto importante. La nave funge d'ambiente controllato e i dati sulla vostra mutazione saranno utili a una nobile causa. Audace, egoista e ambizioso oltre ogni limite. I sogni di voi americani mi hanno sempre disgustato. Grazie, lo prenderò come un complimento. Sapevamo che saresti stato un ostacolo. Quindi abbiamo conservato i video di tutti i nostri scambi. Fossero resi pubblici, la tua vita sarebbe finita. Fate pure come credete. L'uso del satellite è stato approvato. Questo nuovo virus sarà completamente debellato. Brutto bastardo. Avaccio, sarai dove di ciò ti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. Come hai potuto? Jessica è fuggita. Eravamo così vicini. Ehi, mi dispiace. Avevi ragione. Finta all'inizio. Grazie al cielo qualcuno aveva capito. Non essere così duro con te stesso. La prossima volta ti salvo. E usciamo in grande stile. Questo è per l'are cadetto. Raimond ha capito che Morgan non era quello che sembrava e abbiamo predisposto questa trappola. Tutta la storia del ritorno della Veltro. Nascondigli in montagna. Movimenti coordinati delle navi. Tutto per pressare Morgan. Ma signore, non poteva almeno dircelo. Non potevo rischiare. Non con una talpa nella BSA. Mi prego di scusarmi. Tutto quel lavoro. E la Zenobia. E la Semiramis. Sì, lo so. Ma non mi sono ancora arreso. Kate e Quinte ci hanno lasciato con un asso nella manica. L'analisi dei loro dati. Abbiamo i risultati. Allora, di che si tratta? Pensavamo che la Veltro avesse usato due navi gemelle durante il panico di terra grigia. Ma ce n'era una terza. L'ultima regina. L'ultima regina. L'ultima regina.